In occasione della pausa nazionale possiamo andare a tirar fuori un po' tutti i pensieri che in queste settimane ho avuto in testa e quindi voglio partire veramente a piedi pari, voglio entrarvi a martello sulla ginocchiera e voglio domandarvi, secondo voi, Iltis, è un problema tattico per la Juventus? Vado più nel dettaglio, il gioco di Tiago Motta va a penalizzare le caratteristiche di Iltis in quella posizione lì? Ieri ci hanno fatto questa domanda a tutti in the box e io ho dato una risposta, vi metto ora la clip per farvi vedere quello che è, secondo me, la verità, giunti a questo punto dopo qualche partita giocata a Juventus, quasi una decina, con Iltis quasi sempre in campo E vi dico che secondo me questo è il più grande problema tattico che oggi ha la Juventus, ma guardatevi la clip Iltis è sacrificato nel gioco di Tiago Motta? Ad oggi sì, perché il suo ruolo ideale, siccome può fare anche l'esterno, però per me gioca decisamente meglio dentro il campo partendo da esterno, quindi ad oggi secondo me va ancora giustata quella cosa lì, quindi ti dico che parzialmente sì Concordo anch'io, lui è uno bravissimo a cucire il gioco dietro la punta, sempre cercandosi più spazio a sinistra, magari che stando proprio centrale, siccome si pestano un pochino i piedi, lui e le caratteristiche di Copmanners Come si aggiusta quindi questa cosa, che può essere condivisibile o meno, ma che per me è così e proverò di mostrarvi perché vi dico questo? Io ho già una soluzione che andrò a mostrarvi a fine video, ma per arrivare a quella dobbiamo prima di tutto andare a ripercorrere alcuni momenti salienti, non della Juventus di questa stagione Dobbiamo fare un bel salto nel passato, tornare nel 2006 a quel gol che mi fece veramente innamorare del calcio, della Juventus e di questo signore qui, Alessandro Del Piero Perché sì, per andare a capire qual è il problema della Juventus e come si può risolvere, dobbiamo andarci a vedere il gol di Del Piero alla Germania nel 2006 ai mondiali vinti E voi direte, che cosa c'entra? Intanto guardiamocelo Lo avete visto? Direte, me lo ricordo perfettamente, è un gol storico, è il gol del capitano, è il gol con cui siamo andati a giocarci una finale mondiale Come mai potrei dimenticarmelo? E allora forse non avete capito qual è il punto fondamentale del discorso E per riuscire ad attaccare un ulteriore pezzettino, beh, non posso fare altro che lanciarvi la seconda clip di Tutti in the Box dove Davon dà una sua lettura e dove io andavo ad approfondire la risposta Eccola qua E sarà posizionato nel secondo tempo di Genova, un po' sotto, alternando ampiezza con mezzo spazio occupato Però lì serve il terzino che spinge È lì che secondo me... Sì, 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 beh, di conseguenza, no, no, beh, chiaramente, chiaramente sono d'accordo È il momento in cui vi invito a lasciare mi piace a questo video, a commentarlo qui sotto con la vostra opinione, a iscrivervi al canale E perché no, ad abbonarvi, perché gli abbonati i video li vedono in anteprima sul canale Detto questo, facciamo un salto appunto in avanti Torniamo nel presente, anzi, al recente passato A quel gol di Hildiz col PSV in Doven Negli studi di Sky era presente proprio Alessandro Del Piero E raccontava di come anche lui, in carriera in Champions League, aveva segnato un gol simile Subito sono andati a fare il parallelo con quello al Borussia, bellissimo, un pallonetto, un gol alla Del Piero Il suo primo in Champions League In seconda battuta hanno riesumato la clip del gol di Del Piero allo Steau a Bucarest E allora, io vi voglio mettere anche questa clip di questo gol, proprio commentata da Del Piero Dove appare, per la prima volta, una parolina magica Che va a collegarsi anche a quella clip che abbiamo visto prima del gol di Del Piero alla Germania Dove però era proprio lui a compiere questa azione nei confronti di Gillardino Eccola qua Quindi questo è un'intera, con un passato che arriva veloce in una sovrapposizione La sovrapposizione Questa è la parola chiave per cercare di capire dove voglio andare a parare con questo contenuto E di come si può risolvere questo problema tattico Per quanto riguarda la Juventus, Ildis, Tiago Motta e pure Cambiaso Perché poi Del Piero ha commentato pure il gol di Ildis contro il PSV Ed è stato secondo me un grandissimo contenuto avere Del Piero Che commentava un gol del genere con il ragazzo commosso a fianco lui Quindi grazie a Sky per aver creato veramente un contenuto di questo livello Ve l'avevo già detto quando era successo Ve l'avevo invitato ad andare a vedere quel video Che ora vi ripropongo al rallentatore E ancora una volta Del Piero va a utilizzare quella parolina magica lì La Juve lo trova largo a sinistra È molto bravo con il primo controllo a portarla subito avanti E immediatamente a puntare all'avversario Sfrutta la sovrapposizione Che fa un attimino titubare il suo uomo Che in quell'occasione lo stava fronteggiando E allora torniamo a quello che era il discorso che faceva Davo Che secondo me è giustissimo Perché in occasione di Genoa-Juventus 0-3 Nel secondo tempo Tiago Motta ha scelto di spingere in più con i terzini Tant'è che vi ricorderete Calulu era stato invertito con Danilo Calulu era andato sulla fascia destra Dalla parte sinistra c'era Rui E dopo veramente 90 secondi dal fischio di inizio del secondo tempo La Juventus riesce a guadagnarsi A conquistarsi e a battere un calcio di rigore Che però nasce da una determinata situazione Di cui vi metto proprio qui Ora, in questo istante, un fermo immagine Che cosa notate? Vedete Ildis? Non è largo Stringe Perché chi la prende l'ampiezza? Il terzino Ed è lo stesso principio che viene attuato dalla sovrapposizione L'attaccante che può anche partire largo Deve accentrarsi e lasciare l'ampiezza a un compagno Cosa succede in questo caso? L'abbiamo visto nelle clip Del gol di Del Piero alla Germania Del gol di Del Piero con la sovrapposizione di Pessotto Del gol di Ildis con la sovrapposizione di Cambiaso Il marcatore Che in quel caso è il terzino destro O il centrale difensivo In caso del contropiede Del Piero alla Germania Si trova in una situazione di raddoppio Si trova nel più classico dei due contro uno Quindi è fondamentale Che il giocatore possa andare a puntare il marcatore Ma se arriva pure una sovrapposizione O se l'ampiezza viene occupata Da un giocatore ulteriore In questo caso il terzino Come può essere Cambiaso Ecco che nasce la posizione di vantaggio Nei confronti di Ildis Quindi deve essere un gioco di squadra È veramente un principio basilare del calcio Che però viene spesso poco utilizzato Tante volte ci siamo detti Un terzino di spinta Un terzino bloccato In occasione del terzino bloccato Ovviamente Ildis, Del Piero O qualsiasi giocatore Che si trova in quella posizione Non può abusare Di quella che è Una straripanza tecnica E ovviamente Di una giocata fenomenale Come il gol di Ildis al PSV O tutti i gol in carriera di Del Piero O buona parte di essi Io non credo che sia una coincidenza Che la prima partita stagionale E cioè Juventus-Como Abbia visto Ildis personalmente Ma ho visto che è stata una scelta condivisa Come migliore in campo Pure Ildis non ha fatto gol Ha giocato per vie centrali Partiva già da lì Però di tanto in tanto Si allargava sulla sinistra Per prendere la palla E poi accentrarsi Giocava appunto Trequartista Alle spalle di Vlaovic Ma la sovrapposizione In quel caso La faceva un giocatore differente E cioè Bangula Che giocava come esterno di sinistra Dando quindi la possibilità A Ildis Di avere comunque Il raddoppio O comunque la possibilità Di Ildis Di andare a raddoppiare Sul marcatore Proprio perché Bangula Andava a prendersi l'ampiezza In occasione di Lipsi a Juventus La partita che abbiamo vinto In rimonta Soffrendo Esultando Godendo come dei matti Abbiamo avuto La dimostrazione Che se Ildis Parte da quella posizione E non ha l'ampiezza Di Cambiaso Diventa inefficace Andatevi a rivedere A ripescare Il primo minuto Del secondo tempo Minuto 46 C'è Ildis Che attacca In posizione esterna Con Cambiaso In posizione centrale Che non va a dargli La sovrapposizione E Ildis Non riesce a creare Appunto Supererietà numerica La palla Gli aveva data Proprio Cambiaso Che aveva stretto tanto E quindi La corsia di sinistra Era rimasta scoperta C'era Ildis Contro tutti E qui nasce una discussione Cambiaso Può giocare esterno? Cambiaso è un giocatore Che abbiamo già visto Tante volte Va a prendersi Il centro del campo Un giocatore che stringe E quindi lascia scoperta La corsia L'anno scorso Con Chiesa Questa cosa funzionava meglio Perché Chiesa Che invece partiva centrale All'interno del disegno E la formazione Preferiva allargarsi Quindi con Cambiaso Che stringe Ecco che Chiesa Si allarga Il principio è il medesimo Se uno va largo L'altro deve stringere Banalmente È quel principio Che ha reso grande La corsia di sinistra Nel Milan Con Teo e Leao Leao parte largo E quindi Teo Va a stringere Tanto la posizione Ma sì Cambiaso è un giocatore Intelligente È un giocatore Tridimensionale È un giocatore Che può venire Dentro il campo A giocare Ma è anche un giocatore Che sull'esterno Può dare il meglio di sé In che modo? Beh Il gol di Vlaovic Il primo gol di Vlaovic Bellissimo Contro Il Lipsia Quello che dal via La rimonta Nasce proprio Da Cambiaso Che stava esterno Ed è andato a crossare C'è anche una mia clip Dell'esultanza Al gol di Vlaovic In cui continuo A ribadire il fatto Che finalmente Cambiaso era esterno E può fare la differenza Oh Cambiaso largo Oh guarda Una volta che Ma Cambiaso largo Faccio un gol Una volta che ci va largo Oddio Sento che deve stare largo Questo Allora io vado a proporvi Una potenziale formazione Che potrebbe andare A risolvere questo problema Io vi ho già raccontato Tante volte Che per me La Juve Per arrivare al massimo Dell'espressione Deve arrivare a giocare Con Ildis E Cobb Mainers Dietro Vlaovic Una sorta di doppio Trequartista Alle spalle di Dusan Questa è una formazione Tipo Potete metterci Chi volete Io ho scelto Questi giocatori Perché per quelli Che sono a disposizione Oggi Secondo me È la migliore Potete dirmi No preferisco Savona al posto Di Danilo Preferisco Turama al posto Di Locatelli Quello che volete Io vi ho fatto Una formazione tipo Perché questa cosa funziona Noi siamo abituati Alla Juve Che stacca Un difensore Dalla linea 4 Solitamente Cambiaso Per andare dentro Il campo E palleggiare Ma se invece Che questo La Juve Andasse a fare Una roba del genere Questa Secondo me È la versione Migliore Possibile In assoluto Della Juventus Abbiamo Cambiaso Che può Benissimo Venire A fare L'esterno Anche alto Non deve Partire alto Ma lo può fare E quindi andare A fare Esattamente Il giochino Che ha fatto con Vlaovic Il cross Su Vlaovic O scambiare Con Ildis Avere Cambiaso Ildis Che possano Scambiare Con Locatelli A chiudere Il triangolo Secondo me È qualcosa Di molto Positivo Per la Juventus E dall'altra parte Un esterno Che andrebbe Interpretare In maniera Completamente Opposta Il ruolo Con Seisau Che è un vero e proprio Esterno offensivo Un'ala Che abbiamo già visto Può puntare Rientrare E calciare Quindi la Juventus Andrebbe veramente Ad avere Una sovrapposizione Completa Da tutte e due Le parti Con Con Beners Che andrebbe A aiutare Con Seisau E con lo stesso McKennie Che potrebbe aiutare A chiudere il triangolo Questo terzetto Difensivo Per me Può funzionare E aiuterebbe Danilo A non dover spingere Come terzino Perché alla fine Sarebbe semplicemente Un braccetto destro Della difesa 3 Dove si preoccuperebbe Più che altro Di dare copertura Con Seisau Che invece È molto offensivo A me questa disposizione Piace tanto A livello tattico Per quanto mi riguarda Funzionerebbe benissimo Perché andrebbe a creare Ovviamente Ildis e Kovmeiners Dietro Vlaovic Nelle loro posizioni ideali E vi ho già detto Tante volte Che a me piace Immaginarmi Ildis Mezzo sinistro E Kovmeiners Mezzo destro Perché Perché Kovmeiners Da qua può calciare A giro di qua Ildis da qua Può calciare A giro di qua Ovviamente Non devono essere Posizioni statiche Deve essere posizioni dinamiche Per permettere a Juventus Di andare A creare sempre La superiorità numerica Nei duelli Contro i giocatori Che giocano In questa posizione qua Quindi Ildis Che parte largo Ok Va pian piano A stringere Kambiaso Che va in sovrapposizione E quando si arriva A questo punto Il terzino destro L'esterno destro O addirittura Il centrale destro Braccetto destro La difesa 3 Si trova in difficoltà E Ildis ha la possibilità Di servire Kambiaso Sulla sovrapposizione Calciare in porta O cercare L'inserimento di Vlaovic O Kovmeiners Da questa parte Spero di non aver fatto Particolare confusione Anzi Mi auguro che il video Sia uscito il più semplice E pulito possibile Mi sono andato a preparare In precedenza Qualche situazione Che sono andato A riproporvi Fatemi sapere Se siete d'accordo con me Qui sotto nei commenti È un video simpatico Per quanto mi riguarda Ma è anche un video Abbastanza esaustivo Per spiegarvi Quella che secondo me Oggi È la più grande Criticità tattica Della Juventus Perché per quanto mi riguarda Ildis Ha delle potenzialità Incredibile Che in questo momento Non sono ancora state Completamente tirate fuori Un saluto E un abbraccio È un abbraccio